Via Reggio per una settimana sarà capitale della nautica di lusso. Da domani, 15 marzo a venerdì, infatti, è in programma IARE la manifestazione organizzata dal Centro Servizi per l'Innovazione e lo Sviluppo della Nautica, Navigo. Una settimana di eventi dedicata all'assistenza e al refitting degli yacht, che vedrà protagonisti i comandanti delle imbarcazioni in visita ai cantieri navali della costa, impegnati in eventi di formazione e in appuntamenti conviviali. Dall'Welcome Party, alla Costa dei Barbari a Via Reggio, al Dinner Gala, fino alla Captain's Night della bussola di Focette. Fra gli appuntamenti più attesi anche gli incontri faccia a faccia tra le imprese dei servizi di refit e after sales e i comandanti, per una settimana all'insegna della nautica e del lusso, con al centro, ancora una volta, la città di Via Reggio.